Vi vogliamo lasciare con un appello perché non abbiamo dimenticato Padre Paolo Dall'Oglio. Due anni fa, quasi due anni fa, è stato rapito dai fondamentalisti il gesuita romano. Non si hanno più notizie, si pensa, si spera che sia ancora vivo in uno dei carceri dell'Isis, ma vogliamo tenere destra l'attenzione e lo facciamo con un brano musicale che è stato realizzato da suo fratello Pietro. E allora vi lasciamo con queste immagini. Grazie ad Enrico Paolo. Grazie a voi. Buona serata a tutti. 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 Buona serata a tutti.